In un momento di grandi sofferenze, la Chiesa della Repubblica Centrafricana sia protagonista nel processo di riconciliazione e coesione sociale, testimoniando i valori fondamentali della giustizia e della verità. È l'esortazione contenuta nel discorso che Papa Francesco ha consegnato ai Vescovi del Paese africano, ricevuti in visita dell'Eminapostolorum. Il Pontefice invita tutti a non entrare direttamente nelle cherel politiche, ma a formare nella fede i laici, in modo che possano costruire un futuro di vera pace tra i membri delle differenti religioni ed etnie. Passate in rassegna, nel documento, anche la formazione dei sacerdoti che devono vivere il celibato senza compromessi e la tutela della famiglia minacciata da colonizzazioni ideologiche.